Sommigliano, Raffaele, frere, frere. Un petit peu di responsabilità. Avant il y avait la grand-mère, ma mère c'était chef. Et moi j'ai appris tout ça depuis j'avais 5 ans. J'ai commencé à jouer dans la cuisine avec elle en faisant la pâtisserie. On était toujours obligés d'écouter la matière, de respecter, de suivre ce qu'elle voulait nous dire. On suive toujours les filons de la légèreté, de la finesse, de l'élégance. Il Cafè Stern è un luogo magico e particolare. Abbiamo chiesto delle assiette che sono molto conosciute in Italia. Abbiamo lavorato molto con l'eau, con l'huile d'olive e con gli altri huiles, perché prolonge molto il parfum. E per noi il parfum in Italia è qualcosa di molto forte. E tutta la memoria è molto liata al parfum. L'assiette è molto buona, ma anche il giorno dopo. Quando ci ha dato una buona energia, un buon sorriso. Per me è la cucina. Il risotto Saffran Réglisse è la nostra signature. Il lie le racine della Réglisse con le fleur di Saffran. Très affrodisiacca. Fai attenzione. Io ho mangiato tre volte, io ho apporto la piccola. Abbiamo mettere molta harmonia nella cucina, quindi potremmo andare con un sorriso. C'è la ricena dell' зак correcta. Ora vabbiamole, che vessa servizione c'è la gemina. C'è la crack alta. Grazie.